L'evento che avrà luogo a San Giovanni Valdardo il venerdì 8 marzo la mattina al Teatro Masaccio infatti è anche un evento pensato e voluto dalla massuta delle varie opportunità in particolare poi da tutto il gruppo e l'ha condiviso per i giovani e le ragazze delle scuole superiori e si è pensato per cercare di coinvolgere in un modo diverso i ragazzi e le ragazze delle nostre scuole di realizzare un percorso di riflessione tramite ideazione che è la cooperativa sociale che collabora con l'amministrazione comunale di San Giovanni per l'educativa di strada quindi abbiamo chiesto ai ragazzi di preparare loro un video, un documentario su quello che pensano che sia il quotidiano delle donne oggi, delle ragazze oggi quindi il tema con il quale abbiamo voluto individuare questo incontro è donne diritti storie di cittadinanza infatti diciamo oltre a questa presentazione multimediale di questa riflessione dei giovani e delle ragazze che sono state intercettate al di fuori dei luoghi istituzionali sarà con noi la dottoressa Leonora Pinsuti, una formatrice di livello nazionale è una docente insomma di Firenze che oltre a condurre la mattinata sarà anche la voce inagente che cercherà insieme ai ragazzi di capire i contenuti importanti sul tema delle pari opportunità e sarà con noi anche Suor Simona della Casa Famiglia la zona che accoglie le donne vittime di violenza ci siamo state insieme alle rappresentanti del Comitato Tommaso a conoscere Suor Simona e l'abbiamo invitata a questo evento proprio perché porti la sua testimonianza reale, concreta, quotidiana su quelle che sono gli spaccati di scinti delle donne grazie